Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Si rinforza il campo di alta pressione sull'Europa occidentale. Ne conseguirà un miglioramento temporaneo sul nord-ovest, ma nuova aria fresca e instabile arriverà dalla Sira sul nord-est, interessando anche parte delle regioni centrali e in serata anche quelle meridionali. Al sud prevarranno condizioni di tempo stabile, tranne qualche disturbo relegato alle aree appenniniche. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per domenica 7 maggio. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Tendenza ad aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata a partire dai settori settentrionali. Brevi piovaschi saranno possibili dal tardo pomeriggio localmente sui settori appenninici della Basilicata e sulle aree interne della Daunia e del Gargano. Nubi che persisteranno anche in serata, tranne in Salento, dove i rasserenamenti saranno più ampi. Temperature in lieve diminuzione, soprattutto a partire dalla Sira. Venti inizialmente moderati sud-occidentali, ma con tendenza a disporsi dai quadranti settentrionali. Mari da poco mossi, ammossi. Da oggi un nuovo servizio gratuito. Previsioni sul vostro telefono aggiungendo dall'app Telegram il canale Meteo One Puglia e Basilicata. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Oggi ringraziamo il nostro telespettatore Salvatore Marcucci per questo poetico tramonto tra le nuvole ripreso da Torre Lapillo, Lecce. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e al prossimo appuntamento.